Le anticipazioni di Ballando con le stelle della seconda serata sono scoppiettanti TV Blog ha anticipato l'identità del secondo ballerino per una notte di questa nuova edizione del dance show condotto da Millie Carlucci Questa non è l'unica novità che sbalza da un tabloida all'altro. Nel programma parteciperà anche la storica e inimitabile Maria De Filippi. In questa seconda puntata scopriremo il nome del primo eliminato di Ballando con le stelle Ballerino per una notte, Batistuta e sua moglie Irina.La seconda puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 6 aprile su Rai 1, si preannuncia densa di emozioni Una delle novità della serata è il secondo ballerino per una notte. Si tratta proprio di Gabriel Omar Batistuta, un ex calciatore della Fiorentina Il bomber argentino, dopo la sua esibizione, verrà sottoposto al severissimo giudizio della giuria Sui social, molti fan del dance show si stanno chiedendo chi sarà la ballerina che danzerà con Batistuta A rispondere ai loro dubbi, ci ha pensato Bloggo. La sua rivelazione è stata a dir poco spiazzante Il secondo ballerino per una notte non danzerà con una ballerina professionista, ma incanterà la pista da ballo con la moglie Irina Eliminato Ballando con le stelle.Milli Carlucci, per la nuova edizione di Ballando con le stelle, continua a puntare sugli sportivi Infatti, tra i 13 concorrenti di quest'anno figura anche Osvaldo, ex calciatore dell'Inter e della Roma Nella prima serata la conduttrice ha ospitato il pilota paraplegico Nicola Dutto come ballerino per una notte La sua performance ha commosso il pubblico e la giuria. Ora è la volta della coppia Batistuta e Rina Quanti punti raccoglierà per il tesoretto che potrebbe salvare qualche concorrente in gara? Lo sapremo nel corso del secondo appuntamento del dance show di Rai 1 Nella stessa serata sarà annunciato il nome del primo eliminato di Ballando con le stelle Maria De Filippi a Ballando con le stelle come ballerina per una notte, ecco quando Millie Carlucci e Maria De Filippi avrebbero raggiunto un accordo per la nuova edizione di Ballando con le stelle La conduttrice del serale di Amici pare che farà un collegamento in diretta dal suo studio Quando? Uno dei prossimi sabato sera? Finalmente la Carlucci potrà vedere realizzato uno dei suoi più grandi sogni Non resta che attendere